Un paese intero stretto intorno al suo campione. Giussano saluta Stefano Borgonovo, indimenticato calciatore scomparso ieri a 49 anni dopo aver combattuto una lunga battaglia contro la SLA. Oggi alle 15 l'apertura della camera ardente nella sua casa di Giussano, il paese in cui è nato, in cui è cresciuto e in cui ha tirato i primi calci al pallone. Se io potessi scenderei in campo adesso su un prato o all'oratorio, perché io amo il calcio, questo è Stefano. Nonostante questa malattia, questa sofferenza, ha due occhi Stefano ancora adesso che sono uno spettacolo, fanno vedere proprio la voglia che ha avuto fino all'ultimo di vivere. Stefano lascia un esempio per tutti i ragazzi. La notizia della sua scomparsa, in pochi secondi, ha fatto il giro del mondo arrivando in Brasile. In onore di Stefano, ieri sera, la nazionale italiana è scesa in campo contro la Spagna con il lutto al braccio. Un modo per omaggiare un grande calciatore, anche se la federazione italiana avrebbe preferito ricordarlo anche prima della partita, con un minuto di silenzio. Richiesta non accolta però dalla FIFA. In queste ore intanto prosegue il via vai di parenti, amici e conoscenti alla camera ardente. Per tutti, un solo desiderio, dire addio a un campione, nello sport come nella vita, in attesa dei funerali, in programma al medì 1 luglio alle 14.30, nella chiesa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo a Giussano. Un grandissimo ragazzo, un grandissimo giocatore. Un ragazzo semplicissimo, non ha fatto pesare, anche se è diventato un campione, non ha fatto pesare nessuno, è sempre stato uno di noi. Se ne è andata una brava persona. Una brava persona con due grandi amori nella vita. Da una parte la famiglia, con la moglie Chantal, i figli Andrea, Alessandra, Benedetta e Gaia, dall'altra il calcio. Stefano, del resto, è nato con il pallone ai piedi. Era solo un bambino quando fu segnalato al comodo un osservatore. Due anni dopo entrò nel settore giovanile della squadra Comasca, iniziando il suo cammino verso la vetta. Nell'82 l'esordio in Serie A, con la maglia azzurra. L'inizio di una grande carriera, che l'ha visto protagonista non solo con il Como, dopo una positiva esperienza in B con la San Benedettese, ma anche nella Fiorentina, in coppia con Roberto Baggio, e nel Milan, con il quale ha vinto una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. Conclusa l'attività di calciatore, dopo aver giocato anche nell'Udinese, nel Pescara e nel Brescia, Borgonova è passato dal campo alla panchina, allenando le giovani promesse. A rovinare i suoi piani ci ha pensato la SLA, sclerosi laterale amiotrofica, la malattia che lo ha colpito dal 2005 e che ieri se l'è portato via. Una malattia contro la quale Stefano ha lottato fino all'ultimo giorno, assieme alla moglie Chantal e alla fondazione che porta il suo nome. Una battaglia che continuerà con lui e per lui. La battaglia che ha pensato la SLA, sclerosi laterale amiettato fino all'ultimo giorno all'ultimo giorno all'ultimo giorno all'ultimo giorno all'ultimo giorno.